Se vuoi innovare un processo, possono innovare i dati del mercato. Abbaiocchi ha l'obiettivo di offrire ai giovani talenti un luogo di scambio di idee, creazione di network e di interazione con le aziende e valorizzare le eccellenze tecnologiche già presenti sul territorio, distribuendo fondi pubblici per l'innovazione. L'innovazione tecnologica è un punto nodale del nostro programma contestualizzato all'interno dello sviluppo e lavoro, quindi creare le condizioni affinché i giovani e le aziende possano ritrovarsi all'interno di un contenitore che possa dare loro la possibilità di crescere, di scambiarsi idee, scambiarsi progetti e da un lato di sfruttare la tecnologia per tutte le funzioni più utili per la nostra città. Diversi sono i fronti in cui l'iniziativa può generare un impatto tra i giovani che possono trovare nel lab un modo per metterli in contatto diretto con le aziende nelle quali portare innovazione. Attraverso una serie di iniziative poi le imprese possono ritrovare competitività focalizzando sulle proprie eccellenze, generando di conseguenza opportunità occupazionali. Altro fronte per Baiocchi e il territorio, considerando Pesaro come un polo di attrazione per nuovi soggetti economici e per nuovi talenti che spesso sono costretti a muoversi fuori dal territorio a causa di mancanza occupazionale. Il progetto, aggiunge il candidato a sindaco, sarà in grado di segnalare soluzioni innovative che possono migliorare la qualità della vita del comune.